Marco Facciano, allenatore della Fossaltese, allora vi preparate, vi state preparando per questa finale? Voi siete i detentori del titolo di questa Coppa Italia, si giocherà venerdì prossimo al Pala Unimol di Campobasso a partire dalle 15.30 Fossaltese contro Castelpagano. Partita difficile, noi partiamo leggermente avvantaggiati, abbiamo già vinto l'anno scorso, forse abbiamo uomini di esperienza maggiore, sarà una partita dura contro una squadra ben organizzata che abbiamo già affrontato, che ha un bel impianto, è ben allenata e ha delle ottime individualità. Partita per niente semplice, comunque penso che faremo la nostra. Da detentori del titolo questo fatto in partenza alla vigilia della gara può pesare, può essere un ostacolo dal punto di vista psicologico o meno? Come li stai preparando i tuoi giocatori? Nell'ambiente sono molto scaramantici, dirigenza compresa, però per me non dico che sia una partita come un'altra ma nella nostra testa c'è quello di fare sempre di più, per fare sempre di più ti devi abituare a giocare delle partite importanti. Fino adesso l'abbiamo fatto in campionato, mi auguro che i ragazzi rispondano alla grande anche venerdì, perché so benissimo che ci tengono, però non vedo una partita impossibile dall'approccio psicologico. Tra l'altro una squadra con tantissimi giocatori proprio del paese, di Fossalto, questo è lo spirito guida. Sì, quest'anno leggermente di meno, abbiamo avuto degli innesti di ex giocatori secondo me anche importanti un po' dimenticati dalle big della regione, però sì, delle individualità importanti da Fossalto squadra che è nata dalla fusione di Pietracupa e Fossalto e ci siamo integrati abbastanza bene comunque un anno e mezzo che lavoriamo, qualche cosa si vede, ma c'è molto da lavorare abbiamo degli obiettivi un po' più ambiziosi, speriamo di portarli a termine, già l'anno scorso abbiamo fallito C'è stato purtroppo il lutto, il campionato è stato funestato da un recente lutto, la scomparsa di Borromeo, giocatore del Venafro, al termine del primo tempo tra Venafro e Castelpagano questo è sicuramente un episodio che ha sconvolto gli equilibri del campionato, gli stessi addetti ai lavori quindi un pensiero dovuto va alla memoria di questo giocatore, venuto a mancare proprio nel corso di una gara Sì, tra l'altro sono cose difficili da digerire, cose molto brutte non dovrebbero accadere nei campionati sportivi sarebbe da analizzare sotto più aspetti è una cosa che tra l'altro ha avuto delle ripercussioni anche sul campionato, sullo svolgimento reale del campionato non lo so, mi spiace moltissimo per i ragazzi, insomma il mio cordoglio va alla società Venafrana e alla famiglia sono cose che non dovrebbero accadere, insomma, se dovessimo analizzarlo forse qualcosa in più, qualche accortezza l'avrime potuta avere Tornando al calcio a 5 giocato, siete primi in classifica ma mi dicevi è una situazione assolutamente virtuale proprio perché una serie di circostanze hanno fatto sì che tante squadre abbiano delle partite da recuperare non ultima proprio questo lutto improvviso Sì, noi abbiamo fatto un cammino abbastanza spedito, abbiamo fatto il nostro abbiamo incontrato già delle dirette concorrenti come il Venafro battendola però non tutte le formazioni sono allineate con le partite giocate virtualmente siamo primi lo stesso ma il campionato è molto lungo e tra l'altro devo dire a dispetto dell'anno scorso molto più competitivo perché sono almeno 7-8 squadre competitive e secondo me qualcuna che potrebbe già tranquillamente fare il campionato di C1 è un'incognita grossa anche questa mancanza delle partite però insomma adesso abbiamo prima di tutto la finale poi diversi scontri diretti con l'Agnone seconda poi di nuovo con il Montorio che è l'unica squadra che ci ha battuto quest'anno in Coppa è un cammino lungo e interessante, stimolante non si può mai staccare, non si può mai stare tranquilli Allora in bocca al lupo per venerdì pomeriggio Crepi Grazie Grazie Grazie